Sì, semplicemente per aggiungere a quanto diceva l'onorevole Fassina, che come è stato già comunicato anche dalla Segenda i Garaggi, l'intenzione proprio di chiedere al governo nazionale l'estensione a tutto il 2021, mediante lo staziamento di risorse specifiche. Quindi concordemente a quanto dichiarato dall'onorevole Fassina, l'amministrazione ovviamente non può che essere favore o le concorde e si muove in tal senso. Grazie Presidente. E quindi il voto favorevole della maggioranza.